Ciao ragazzi, oggi facciamo un allenamento colpo libero, dedichiamo l'attività alla catena muscolare posteriore e quindi lavoriamo su gambe e glutei sostanzialmente, un allenamento che ci farà venire sicuramente delle muscolature importanti se contrattivano in tempo e perché no, glutei forti ci aiutano nella camminata, nella corsa, nel ciclismo, insomma in tutte le attività che possiamo decidere di fare, anche nella camminata veloce, impostiamo il nostro allenamento, vediamo quanto durerà, faremo qualche esercizio e ci divertiamo insieme, iniziamo con il ponte per i glutei, attività eccellente, per ogni allenamento, per ogni esercizio facciamo 5 serie, quindi faremo 5 serie delle ripetizioni che riusciremo a fare, in questo caso penso intorno alle 20-30, vediamo un attimo e te lo dico man mano che ti chiedi che finiscono ogni ripetizione, forza, mi raccomando state fino, non facciamoci male. ! Poi, per la mia faremo in mente, lo s'icomando, la mia faremo in mente, si è più perché si è più divertito, per la mia faremo in mente, non facciamoci male. La mia faremo in mente, è una bella, mi raccomando il prezzo, ma Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 25 ripetizioni quindi faremo 5 serie da 25 ripetizioni. Come vedi la postura è assolutamente importante, piedi pari appena ben saldi, braccia ben salda a terra e solleviamo finché riusciamo il nostro rivoluteo, spingendo per colga su quando la sogniamo, aspettiamo un secondo quando siamo assunti e poi ridisci il tiro. Adesso facciamo un riposito di 30-40 secondi e poi facciamo la seconda segre. e poi facciamo un'altra segre. e poi facciamo un'altra segre. e poi facciamo un'altra segre. Aspettiamo 30 secondi e facciamo un'altra segre. Poi se tu percorrisci meno di 25 o più di 25, condividi e non ti scrivono nei commenti, insegnami se hai qualche suggerimento, qualche esercizio in più oltre a questo, possiamo andare anche a lavorare a raggiungere del carico, questo che stiamo facendo. Oggi facciamo 30 secondi di recupero e ci rimettiamo alla terza segre. e poi facciamo un'altra segre. Ok. e poi facciamo un'altra segre. 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 Io sono partito della KPI e quindi mi segno tutto quello che faccio, ovviamente seguo il mio allenamento, quindi mi ho chiedato Garmin fuori a Garmin 945, l'allenamento di pesi suo va benissimo, basta impostare peso a zero e lui nell'applicazione Garmin Connect sempre facendo un altro strumento che ti insegna l'allenamento, ti ritrovi tutto, interessante. Andiamo alla quinta e ultima di questo esercizio. Garmin 1045 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 Garmin 1133 Grazie a tutti Il prossimo esercizio invece di 5 serie ne faremo 10, in realtà saranno 2 esercizi perché le gambe ne abbiamo 2, 5 serie cada una, sono le alzate laterali, quindi ci mettiamo su un lato, faremo le nostre attività su una gamba, poi ci gereremo dall'altro lato e faremo un'altra attività. Quindi mentre riposa una facciamo l'altra e mentre rilavora l'altra riposa una. Ok? Seguimi dai! La posizione è questa. Appoggiamo bene la nostra gamba, la testa possiamo appoggiarla da dove vogliamo, le gambe dritte, tese, quando andremo a sollevare il piede lo rivoltiamo verso l'interno. Quasi! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Quindi ci giriamo dall'altra parte e se sei più bambino di là io non voglio anche le spalle Grazie a tutti 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 Grazie a tutti